benvenuti in beltrani camper in caravan vi presentiamo oggi questo bel mansardato challenger 153 casa costruttrice francese uno dei mansardati più commerciali più diffusi e apprezzati dal pubblico scocca in resina motore fiat ducato 2.8 gtd 127 cavalli alla grande affidabilità un mansardato compatto 6 metri e 21 di lunghezza con la possibilità di avere sei posti letto cinque posti omologati per la marcia il veicolo presenta 120 mila chilometri ha una bella dinette centrale tappezzeria seminuova tenuta molto bene armadio laterale con stufa truma 3000 boiler separato truma grande letto matrimoniale in mansarda cabina fiat letto comodo con finestra il veicolo ha un portabici esterno un pannello solare che gli dà una bella autonomia di corrente una scaletta esterna cucina laterale con frigo sottostante letti a castello con gavone laterale di accesso al letto inferiore e possibilità di sottostante stivaggio bagno in coda comodo con un box doccia separato e la finestra in bagno mansardato dall'ottimo rapporto qualità prezzo ideale per la famiglia soli 6 metri 21 di lunghezza un veicolo maneggevole in strada ben tenuto sia come interne che come esterni vi aspettiamo in concessionaria